Rieccoci con i nuovi obiettivi per il 2021. Come ogni anno li condivido con voi per creare quel senso di responsabilità nei vostri confronti e soprattutto sulla mia parola. Infatti una cosa che ho imparato l'anno scorso è il rendere o rendersi responsabile, sia nel delegare un lavoro che nel fare un lavoro, ma di questo ne andremo a parlare dopo. Perché prima di iniziare ad elencare gli obiettivi per il prossimo anno, volevo fare una brevissima riflessione sull'anno che si è appena concluso, dove ho fatto tantissimi errori e ve ne ho anche parlato in uno scorso video. Avanti! Grazie, signore. Grazie, signore. Pacchi! Fede, fa te, vedi se inserite qualcosa che si può. Ah, questi qua non sono per me. Avanti ancora, cosa c'è? It's your, this. No, it's not mine. Fia, sto girando un video. Hey dog, come on! Amo, stai, vai fuori. Come on dog! L'errore principale che mi imputo per lo scorso anno è stato il focus e la semplicità. Infatti mi ero segnato veramente tantissime cose da fare che poi per un motivo o per l'altro non ho fatto. Quest'anno invece gli obiettivi, come vedrete, sono ambiziosi come sempre, ma lasciano molto più spazio ai cambi di rotta, cosa di cui in questo periodo ho molto bisogno. Perciò quest'anno vige la regola, pochi ma buoni e semplicità per riuscire a vivere meglio il presente. Perché alla fine gli obiettivi impostano la direzione su cui ci muoviamo. Ma se vogliamo raggiungerli dobbiamo amare, creare e lavorare ad un sistema e su un processo nella nostra quotidianità. Obiettivi più processo uguale risultati. Quindi scegliamo bene il futuro che dirige il nostro presente perché dobbiamo amare anche il viaggio prima di arrivare a destinazione. Poi se volete approfondire la filosofia su cui mi baso per scrivere e scegliere un obiettivo, ho da poco pubblicato un video che parla proprio di questo e al suo interno potete trovare anche moltissimi trucchi pratici per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Passiamo ai miei di obiettivi che ho diviso in sei categorie. Social, personali, finanziari, aziendali, di networking e di salute. E poi se rimanete alla fine di tutto questo vi do anche qualche spoiler di qualche progettino che sto avviando. Prima categoria, presenza nei social. Dato che il mio lavoro dipende prevalentemente dalla mia presenza nei social, in questo momento ho deciso di creare questa categoria. Qui l'obiettivo principale, lo so è molto difficile, è raggiungere i 400.000 iscritti su YouTube. E come posso arrivarci nella mia quotidianità? Devo lavorare bene e produrre almeno due o tre video a settimana di qualità. Quindi per quest'anno la mia priorità giornaliera sarà produrre, ricercare e pensare a dei contenuti da pubblicare settimanalmente su YouTube. E l'obiettivo è riuscire a registrare almeno quattro video di cui magari uno va a finire in spazzatura o magari lo si rigira negli altri social. In questa categoria l'anno scorso, anche per differenziare la mia presenza nei social, avevo elencato Facebook, Instagram, TikTok. Quest'anno ho deciso di non farlo perché voglio focalizzarmi principalmente su YouTube. In realtà tutti gli altri social, escluso Instagram dove vi faccio vedere quotidianamente quello che faccio e la mia vita, Voglio cercare di delegarli a qualcun altro, ovviamente dando a questo qualcun altro la responsabilità e degli obiettivi tramite anche dei calendari editoriali. Ma di questo ne andiamo a parlare nella sezione aziendale. Secondo obiettivo in questa sezione è pubblicare almeno quattro video nel mio canale in inglese. Sì, l'anno scorso avevo avviato un canale in inglese dove in questo momento potete trovare un video, che tra l'altro secondo me è anche molto bello ed ispirazionale, ma quest'anno voglio cercare di pompare e diciamo rimpolpare quel canale. Iniziamo ad andare più veloci. Seconda categoria, obiettivi personali. Primo obiettivo, leggere almeno 15 libri. Ho incrementato questo obiettivo dai 12 dell'anno scorso, questo perché sono riuscito a introdurre la lettura nella mia quotidianità e con Audible sto spingendo tantissimo e sto ascoltando tantissimi libri. Tra l'altro vi lascio un link tramite il quale potete avere 30 giorni di prova su Audible qui sotto in descrizione, perciò se volete provare il servizio che io utilizzo per ascoltare alla fine tutti i miei libri, è comodissimo, ve lo consiglio. Trovate qui una prova di 30 giorni. Secondo obiettivo, visitare 6 nuovi stati, almeno uno in Asia e uno in America. In realtà spero che la situazione che tutti stiamo vivendo finisca il prima possibile, ma io ho la necessità e voglio, dato che ne ho anche la possibilità, riuscire a viaggiare molto di più quest'anno. Continuo a scrivere l'obiettivo di allenarsi almeno una volta al giorno. Fortunatamente questa cosa già è nelle mie abitudini e già la faccio, quindi voglio semplicemente mantenerla. Quarto obiettivo, migliorare la mia parlata in inglese. Ho già visto differenti corsi a cui mi iscriverò non appena finirò l'attuale corso che sto seguendo sul business management tenuto online da Harvard. Molto molto figo. E dopo il corso di parlata in inglese voglio iscrivermi o comunque trovare un corso di public speaking. In questo momento ho la possibilità di tagliare infinite volte quello che sto dicendo di fronte alla fotocamera e siamo soltanto io e lei. Un domani però mi piacerebbe moltissimo tenere lezioni, manifestazioni e presentazioni dal vivo. Per questo, perché non esercitarsi? Terza categoria, obiettivi finanziari. Il primo obiettivo è arrivare ad un portafoglio di investimenti personali di almeno 150.000 euro. Se seguite la mia rubrica mensile sugli investimenti sapete dove mi trovo e sapete quanto mi manca. Questo, secondo le mie stime, è ampliamente possibile, quindi continuiamo a lavorarci anche nel 2021. Secondo obiettivo, continuare i miei piani d'accumulo. In questo momento investo in accumulo circa 2.500 euro al mese. Manteniamo e continuiamo con questa cifra. Terzo obiettivo, investire in almeno due start-up o progetti, miei o non, che arriveranno nel 2021. Vediamo cosa succederà. Questo obiettivo me lo sono segnato principalmente perché anche nel prossimo anno vorrei cercare di ampliare la mia visione di quello che succede nel mondo e vedere e magari entrare in alcuni progetti che non mi competono dove però vorrei imparare. Quarto obiettivo, comprare e mettere a rendita un immobile. Non vado a prolungarmi e se vi iscrivete al canale vedrete cosa ho intenzione di fare per quel che riguarda questo obiettivo. Quarto paragrafo, obiettivi aziendali. Il primo obiettivo e più importante di tutti è continuare ad automatizzare le mie aziende e i miei progetti. Per questo mi sono già puntato due ruoli, uno su risparming e uno su Zmedia che andrò a cercare e trovare nel prossimo anno. Poi oltre a questo voglio migliorare il discorso di meeting e riflessioni aziendali insieme anche ai miei collaboratori. Ed oltretutto mi piacerebbe e voglio e sto anche studiando in funzione di questo rendere più responsabili tutte le persone che lavorano con me in modo tale che rendano di più, rendano meglio e magari siano anche più felici. Poi se vi interessano i soldi, qual è il mio obiettivo monetario aziendale, il mio obiettivo lo rinnovo per Zmedia è fatturare almeno 300.000 euro durante l'anno prossimo. Mentre per quel che riguarda quello che ora è un progetto all'interno di Zmedia, parlo di risparming, in questi mesi tra gennaio e febbraio andremo a fare la struttura aziendale, quindi risparming diventerà un'azienda. Terzo tra questi obiettivi. Dopodiché, sull'applicazione di risparming abbiamo diversi lanci ed aggiornamenti dell'applicazione nel corso di quest'anno, già pianificati. Forse dovrei andare a fare un video dedicato soltanto a risparming, magari ditemelo qui sotto nei commenti e lo facciamo. E dopo aver fatto tutto questo, stiamo valutando se procedere con il normale processo di incubazione e raccolta di capitali stile startup per risparming. Quinto paragrafo, networking. Qui ho un unico obiettivo, è quello di conoscere almeno due persone al mese che siano stimolanti ed interessanti con le quali io possa scambiare valore. Sono sempre stata una persona apertissima se contattata, quindi mi auguro e spero di riuscire a conoscere o comunque andare a contattare almeno due persone con le quali scambiare valore in modo reciproco per ogni mese del prossimo anno. Sperando anche che non debba vedermi sempre attraverso un monitor ma si possa anche muoversi e viaggiare. Sesto paragrafo, salute. Il primo obiettivo è quello di iniziare degli incontri con uno psicologo. Ho sempre trattato principalmente il mio corpo ed il mio fisico ma mai la mia mente e secondo me, magari sperimentando questa cosa, anche in questo lato della mia persona si può migliorare magari attraverso anche uno psicologo. Perciò voglio provare a fare delle sedute, voglio vedere che succede. Magari ne ho realmente bisogno e non me ne sto accorgendo. Secondo obiettivo, lo rinnovo dall'anno scorso, eliminare lo zucchero aggiunto nella mia vita. Io sono un estremo consumatore di zuccheri e quindi vorrei cercare di limitarlo sempre di più partendo da ora eliminando fin da subito quello che si va ad aggiungere col cucchiaino perché anche di quello io esagero. Terzo obiettivo che raggiungerò anche tramite uno dei progettini che vi sto per andare a parlare è arrivare ad una buona tonicità e si parla dal 6 al 15% di grassi nel mio corpo. Poi ragazzi ora per questioni di tempo vi ho detto tutti quelli che sono gli obiettivi e di gran parte di questi non vi ho detto come ho intenzione di raggiungerli cosa che in realtà però mi sono segnato e ho diciamo scelto e deciso ed analizzato cosa che secondo me e vi consiglio di fare per ogni vostro singolo obiettivo altrimenti non verrà mai raggiunto. Ci tengo a sottolineare questa cosa perché alcuni di voi potrebbero dire predica di misurare e rendere tangibili giornalmente ogni obiettivo e poi alla fine molti di quelli che ha descritto in questo video sono magari propositi che devono ancora trasformarsi in obiettivi misurabili. Ora per chi è rimasto fino in fondo vi do qualche spoiler di alcuni progettini su cui sto lavorando. Il primo è quello che mi sto allenando per una maratona e sarà particolarissima vedrete i video in futuro e sarà molto figo. Il secondo progetto è una masterclass sul risparmio infatti ho pubblicato da pochissimo una guida che è un concentrato di nozioni sul risparmio che è stata apprezzata da tantissimi di voi quindi ho intenzione di riprenderla e approfondirla perché è una cosa che mi state chiedendo in tanti. Terzo progetto di questa masterclass che sarà video voglio crearci un libro e dopodiché questi sono tre spoiler che forse non avrei dovuto darvi gli altri li scoprirete se vi iscrivete poi ovviamente come sempre ditemi cosa ne pensate di questo video lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto ed è stato interessante e noi ci vediamo alla prossima avventura ciao a tutti ragazzi